allora io mi domando come fate in una situazione del genere a sostenere che voi siete un gruppo politico di sinistra ma quale sinistra dove sta la sinistra qui dove la vedete la sinistra dove la vedete se togliete i soldi ai più deboli per darli agli eventi della giunta dove la vedete e da queste piccole cose che si vede si vede come 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 siete fatti quello che volete fare come e come volete comportarvi con la città oggi vi state comportando nel modo più più becero possibile